Ciao ragazzi, nel video di oggi parliamo della promozione BuddyBank che vi permette di guadagnare da un minimo di 40€ ad un massimo di 240€. Vi spiego tutto dopo la sigla. Ok, avevo sempre voluto farlo. Ora procediamo con ordine. Potete scaricare BuddyBank sia su Android che su iOS ed usufruire della promozione SuperBuddies. Registrandovi con un codice invito infatti, come ad esempio questo, che vi lascio anche in descrizione ed è il mio codice personale, potrete ricevere un bonus di 40€. Bonus che sarà assegnato successivamente anche a me. E una volta effettuata questa registrazione, avrete anche voi a vostra volta un codice da poter fornire ad altre persone, fino ad un massimo di 5 inviti, che vi permetterà di guadagnare altri 200€, per un totale complessivo di 240€. Tenete presente però che ora stanno ricevendo moltissime richieste di creazione del conto e quindi la vostra richiesta potrebbe venire processata con qualche giorno di ritardo, ma tranquilli, nulla di preoccupante. Io sono il loro cliente da quasi due anni, mi sono sempre trovato bene e per questo mi sento di consigliarvela. E detto proprio francamente, sia che voi utilizziate o meno il mio codice. Detto questo però, ci può essere qualcuno tra di voi che questa banca non la conosce. Per questo ora vi darò una spiegazione. BuddyBank è il modello di banca Unicredit esclusivamente per lo smartphone ed i vantaggi nel creare questo conto sono molteplici. Partendo dal fatto che nella sua versione base è un conto a canone 0, che vi permette inoltre di effettuare bonifici SEPA gratuiti ed inoltre vi permette di prelevare a zero commissioni in tutti gli ATM Unicredit in Italia e nel mondo. Questa è una caratteristica molto utile, soprattutto se siete dei viaggiatori. Ed ultimo, ma non per importanza, vi permette di comunicare direttamente con l'assistenza via chat H24. Questo è molto utile perché vi permetterà di risolvere eventuali problemi, qualora ce ne fossero, direttamente dal vostro telefono nella sezione apposita dell'applicazione. Detto questo, voglio dirvi che ho realizzato questo video perché nelle analytics dello scorso video sulla banca N26 ho visto che molti termini di ricerca che erano stati utilizzati per arrivare a quel video riguardavano la promozione BuddyBank 2021. Ho quindi pensato che potesse essere un tema che vi sarebbe potuto interessare ed ho deciso di realizzarci questo video. Vi chiedo di lasciare like se vi sono stato utile, di commentare in caso abbiate dubbi, domande o in caso vogliate fare delle osservazioni, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video. Io vi ringrazio e ciao a tutti!